Avete mai pensato che le vostre città, i luoghi in cui abitate, possano avere un valore molto più alto rispetto a quello che in realtà gli attribuite? Vi è mai capitato di immaginare una città il cui valore non è determinato soltanto da fattori storico ed economici, ma soprattutto da valori sociali e ambientali? Credo fortemente che il valore di una città possa essere rappresentato da un'equazione come questa. Un'esemplice formula in cui una città è il risultato della somma delle persone e degli esseri viventi che la vivono. Mi occupo di architettura e rigenerazione urbana da oltre 12 anni e credo fortemente che il rapporto con le persone, l'umanizzazione dell'architettura, sia una delle cose più importanti da fare in questo momento. Mi occupo di architettura in una chiave interdisciplinare, quindi mi piace mettere in relazione l'arte, l'architettura, la musica, la sociologia, la natura e la tecnologia. Per farlo ho messo a sistema una pratica operativa che ho avuto la fortuna di mettere in gioco ancora di più durante la penultima biennale d'architettura a Venezia, su invito del Padiglione Italia. In quell'occasione ho deciso di ripartire dal suolo, proprio perché il suolo è uno degli elementi principali per la vita dell'essere umano. E soprattutto il consumo di suolo è uno dei fattori più importanti in questo momento in Italia. Pensate che se ne consumano due metri quadri al secondo, perdendo tantissimi fattori ecosistemici e soprattutto tanta biodiversità. Allora ho deciso di ripartire da una macchina terraformante. Ho progettato e autocostruito Gerico, che è una macchina che usa un fertilizzante a base di micorrize, ovvero di funghi e di spore, che ha la capacità di rigenerare il suolo compromesso e dà la possibilità quindi al terreno di riacquisire i propri valori nutrizionali. E' questo un momento in cui le città sono aggredite, c'è una forte cementificazione, lo spazio urbano viene sottratto ai cittadini e quindi è il caso di diventare paladini dello spazio urbano, riappropriarci dei nostri spazi, fare in modo che gli spazi urbani possano diventare degli ecosistemi ancora più vivibili. Per fare questo immagino che le città debbano avere un nuovo equilibrio fra lo spazio antropizzato e lo spazio naturale. Per fare questo immagino e credo fortemente nel valore della cittadinanza attiva, quindi credo fortemente nel coinvolgimento dei cittadini e soprattutto nella creazione di quelli che chiamo dei piccoli dispositivi ecosistemici di comunità, che sono delle piccole architetture quasi reazionarie nella loro composizione, che creano un rapporto empatico con i cittadini stabilendo un nuovo rapporto fra lo spazio e l'architettura stessa. Ve ne presento alcuni. Questo progetto si chiama Sentorto ed è un progetto che si è interrogato sull'importanza degli orti urbani e su come renderli attrattivi per i cittadini, creando un rapporto e uno spazio empatico fra l'architettura e gli esseri umani stessi. È un progetto che fa della ripetitibilità, infatti è possibile utilizzare tre triangoli e creare infinite configurazioni. E soprattutto che crea un buon rapporto fra una parte artigianale è l'uso di macchine a controllo numerico per generare questo progetto. C'è un paesaggio sonoro che è in grado di modularsi in base alle variazioni ambientali di temperatura, umidità e velocità del vento. Questa musica, che crea un rapporto empatico con i fruitori, è in grado appunto di innescare un meccanismo di relazioni fra il progetto e i cittadini. E delle dinamiche di social gardening, ovvero di cura di questo spazio con i cittadini attraverso un canale Twitter attraverso il quale è possibile attivare l'irrigazione dell'orto e quindi creare ancora più empatia fra lo spazio costruito e lo spazio degli esseri umani. Un secondo progetto, che si chiama Wunderbugs, si è interrogato sul rapporto tra l'essere umano e gli insetti. Gli insetti rappresentano il 75% degli esseri viventi e senza di loro non ci sarebbe la vita sulla Terra. Per questo anche questo progetto, attraverso dei meccanismi aggregativi, fa in modo che il progetto possa essere realizzato in pochissimo tempo, reinstallato in tantissime location. In questo caso era stato posizionato all'auditorium al Parco della Musica di Roma. Ed è un cerchio del diametro di 5 metri, con questa corona che crea uno spazio avvolgente. All'interno ci sono sei ecosistemi equipaggiati con Arduino, delle camere che tracciano i valori ambientali all'interno dello spazio. E questi valori, che poi vengono restituiti e trasformati in segnali MIDI, possono generare anche in questo caso un paesaggio sonoro che serve proprio per creare un rapporto ancora più forte fra lo spazio e i fruitori dell'opera. È possibile anche diventare dei piccoli direttori d'orchestra, come nel caso del bambino di questa installazione a Milano. E quindi il progetto crea ancora di più un senso di appartenenza e un rapporto ancora più diretto con i fruitori dell'opera. Zig Zig Zig, invece, è un parco sensoriale permanente per la città di Favara. Pensate che in questo caso uno spazio privato è stato donato alla comunità rigenerando la periferia di Favara, che è un piccolo paesino in provincia di Agrigento, vicino alla Valle dei Templi. In questo caso i cittadini, e questo è un momento subito dopo l'inaugurazione, hanno immediatamente creato un rapporto di vicinanza tra il progetto e la città stessa. Anche qui, attraverso l'aggregazione di moduli semplici, in questo caso esagonali, è possibile ricreare un sistema che si può adattare a qualsiasi contesto ed è possibile aggregarlo e realizzarlo in pochissimo tempo. In questo caso ci sono voluti un paio di giorni. Un orto di nome Eva, invece, che è un progetto che abbiamo realizzato da poco, è un orto didattico composto da sette moduli aggregati, aggregabili, si possono anche usare in maniera indipendente. Questa che vedete qui sulla destra è la direttrice, ovvero l'elemento centrale che coordina l'irrigazione di tutti gli altri. Quindi i bambini si ritrovano all'interno di uno spazio a cielo aperto, di uno spazio didattico in cui possono compiere determinate azioni, in cui possono imparare e apprezzare che cosa vuol dire fare un percorso legato, che lega l'architettura con l'agricoltura. In questo caso la bambina sta utilizzando una piccola sfera biodegradabile dove all'interno c'è il terreno, dei semi, e quindi attraverso i quali poi poter seminare i campi vicini alla scuola. Questa è una macchina idroponica, poi ci sono altri elementi che servono per sensibilizzare ancora di più il bambino attraverso il proprio percorso didattico che viene svolto e integrato all'interno della classe e anche all'esterno. In un momento in cui i bambini e le nuove generazioni vengono messe spesso da parte in termini di opinioni, una scuola di architettura per bambini come quella che abbiamo creato a Favara qualche anno fa diventa un elemento rivoluzionario all'interno di un contesto che ha sempre vissuto di cementificazione e di mafia. I bambini si ritrovano a contatto una volta a settimana con dinamiche interdisciplinari in cui imparano l'utopia, imparano a progettare, si immergono all'interno di un percorso formativo interdisciplinare in cui vengono a contatto con tantissime discipline che spaziano dalla tecnologia alla progettazione analogica, all'uso di materiali sostenibili, alle stampanti 3D, all'uso di Arduino, a tantissime altre forme didattiche che hanno lo scopo non di generare architetti ma di formare bambini per una cittadinanza attiva, cioè renderli protagonista del proprio territorio perché loro saranno il futuro della propria città e quindi è importante che diventino consapevoli sin da subito. Una partecipazione che è un po' un nostro modus operandi anche nei progetti pubblici. In questo caso ci siamo occupati della rigenerazione urbana di un viale molto grande a Bagheria, in provincia di Agrigento. In questo caso abbiamo sia interpellato i cittadini, quindi le generazioni più grandi, ma soprattutto i bambini, in cui crediamo molto. Abbiamo coinvolto uno stakeholder importante che è l'Istituto Comprensivo Bagnera. Il progetto include tutto questo viale che va da Corso Butera, che è il viale principale, fino a Via Città di Palermo. Questi sono 440 metri per 22 di larghezza e quindi con l'apparato didattico dell'Istituto, con l'apparato dirigenziale, abbiamo immaginato questo percorso formativo attraverso il quale i bambini si sono cimentati proprio nella coprogettazione insieme a noi dello spazio pubblico, immaginando i loro spazi e dandoci anche tantissime informazioni utili che noi abbiamo riversato all'interno del progetto, abbiamo considerato e abbiamo trasposto poi in chiave architettonica. Il risultato è un parco lineare che connette i margini del progetto, dei marciapiedi, con lo spazio centrale. Abbiamo allargato lo spartitraffico centrale da 5 a 10 metri, togliendo parcheggi, quindi inserendo più verde, rallentando il traffico, valorizzando la mobilità dolce e tenendo soprattutto conto di quello che i bambini volevano rappresentare. Il cantiere è iniziato da circa un mese e si concluderà a metà del prossimo anno e i bambini sono molto contenti perché spesso ci vengono a trovare in cantiere e vedono proprio effettivamente i risultati del processo che abbiamo svolto insieme. Processo partecipativo appunto al quale siamo molto legati proprio perché anche attraverso un altro progetto che è in corso di realizzazione, un nuovo complesso parrocchiale, il nuovo complesso parrocchiale Santa Barbara di Licata ad Agrigento, anche lì c'è stato un coinvolgimento che addirittura è partito due anni prima dalla progettazione grazie al lavoro svolto dalla CEI e dal CLILAB. In questo caso poi abbiamo progettato e poi realizzato un complesso parrocchiale di 5.000 metri quadrati di spazio, 2.500 di costruito, in cui sta per essere ultimata l'aula liturgica con il campanile, la cappella feriale, la sacrestia, la casa canonica, i locali di ministero pastorale e il salone parrocchiale. Queste sono alcune immagini degli spazi comuni quindi legati al salone parrocchiale, mentre questa è tutta la carpenteria per la realizzazione del portale principale e questo è lo spazio voltato dell'aula liturgica. E questo è come verrà realizzato alla fine del cantiere. Ho voluto rappresentare un vocabolario di azioni e di discipline che mi piace utilizzare proprio per creare una connessione maggiore fra il contesto che vivo e le occasioni progettuali che mi si presentano di fronte. Quindi credo fortemente in un rapporto interdisciplinare fra l'architettura e il contesto. E penso che proprio per la diversità a cui dovremmo essere sempre abituati e avvezzi il nostro modo di progettare possa essere realmente coerente con quello che è un modo di fare sicuramente che deve coinvolgere tante discipline e soprattutto tanti attori dagli esseri umani agli insetti a tutti coloro che comunque fanno parte del nostro ecosistema. Perché penso fortemente che se le persone possono sedere insieme allora vuol dire che possono anche sognare insieme. Grazie. Grazie.